E ci spostiamo ad Alcamo, eletta presidente della seconda commissione consigliare Anna Allegro dell'Udc. Un'elezione che ha scaturito le polemiche trattate nei giorni precedenti che hanno portato alle dimissioni del consigliere comunale 5 Stelle, Anna Lisa Ferrara. Mi sono sentita in dovere verso la commissione, verso la mia città, di mettere a disposizione l'esperienza maturata negli anni passati. Qualcuno del Movimento 5 Stelle, quindi non dalla sua parte politica, ha favorito questa elezione. A seguito di questa elezione sono avvenute delle vicende un po' decisive politicamente. Parlo appunto delle dimissioni della mia collega consigliera Anna Lisa Ferrara e mi è dispiaciuto tantissimo. Però ritengo che la politica è fatta di scelte e magari anche il suo gruppo politico ha ritenuto più opportuno dare la presidenza a me. Io, come dimostrato in passato, sono stata sempre aperta al confronto, alla collaborazione e soprattutto al lavoro per la mia città. Quindi questo confronto diretto con l'amministrazione, questa collaborazione dove ci sarà occasione e se ne ritengo opportuno che ben venga. Quando posso lavorare, agire per la mia città, non mi sono mai tirata indietro e penso di averlo dimostrato. Una commissione alla minoranza. Già in passato si era parlato di questa evenenza. Secondo lei perché in passato non è avvenuta? Ancora non c'era questa apertura politica e mi permetto di dire un po' anche maturità politica da parte del Movimento 5 Stelle. Che dopo quattro anni è cresciuto tanto, ha capito che la politica va al di là delle casacche, che la politica si fa per il popolo, per la gente e soprattutto che i risultati si ottengono lavorando insieme, non scontrandosi continuamente. Quindi devo dire che sono soddisfatta di questa nuova visione che ha preso l'amministrazione locale, il Consiglio. Mi auguro che questo sia l'inizio di una collaborazione e di un confronto per il bene di Alcamo. Grazie. Grazie. Grazie.